Raffael Gualazzi e The Bloody Beatruz Il cantante e pianista di Urbino, Raffael Gualazzi, torna a Sanremo e sarà uno dei 22 big in gara al festival della canzone italiana. E' quanto annunciato nei giorni scorsi da Amadeus, direttore artistico e presentatore della settantesima edizione del festival. Il ritorno di Gualazzi sul palco dell'Ariston segna una nuova avventura per l'artista, dopo il successo dell'edizione Giovani nel 2011 e secondo assoluto in quella del 2014. Vincitore Raffael Gualazzi! Gualazzi! Così tu, come il tempo a correre via, ma rimani con me, non ricordo neanche un solo attimo di te. Top Secret è il titolo del brano che Raffael porterà a Sanremo, ma secondo alcune indiscrezioni la timbrica musicale avrà alcune note sudamericane. Dato certo che dal 6 gennaio in poi la canzone di Gualazzi inizierà ad essere programmata nelle varie radio nazionali, fino ad arrivare alla serata del festival dove sarà proposta sul palco la canzone suonata e cantata dal cantautore. Torneranno i figli delle stelle, sui tuoi sedili in pelle, le penne stiro in mano e le vacanze in treno. Inoltre, come tutti gli altri Big, proporrà durante il festival una cover E se domani, il celebre brano portato al successo nel 1964 da Mina e composto da Giorgio Calabrese. E se domani è sotto il mio senso.